Tedeschi, allora questo pareggio è arrivato nel secondo tempo, vi siete un po' illusi di poterla portare a casa questa partita a un certo punto? Sì, ci eravamo illusi ma direi che è una costituzione per noi essere rimontati. A parte gli scherzi, onore a queste due squadre che secondo me hanno disputato una partita a viso aperto. Sapevamo che avremmo incontrato una squadra che gioca, che cerca di vincere le partite e così è stato. Buonissima squadra e dobbiamo essere soddisfatti, al di là del rammarico ovviamente del fatto che eravamo in vantaggio. Però insomma, ripeto, fare un punto contro questo Teramo è motivo d'orgoglio. La politica dei piccoli passi pagherà alla fine? Vedremo. È chiaro che con un punto a partita probabilmente si va un po' lontano, però cerchiamo di vedere il bicchiere mezzo pieno, siamo ancora imbattuti. E ripeto, giocare in campi del genere e uscire indenni non è per niente facile. Che impressione ha avuto del Teramo? Ottima, ripeto, le avevamo viste già in diverse partite e ci aveva sempre fatto un'ottima impressione anche nelle partite che ha perso, soprattutto con il Grosseto. Quindi domenica a Ferrara, ottima partita. Sapevamo che, ripeto, a differenza di tante altre squadre, è una squadra che è una compagine che gioca per vincere e per questo sicuramente sono convinto che alla fine dirà la sua.